Secondo uno studio recentissimo del comune di Bologna è emerso che in Emilia Romagna il 75% dei posti di lavoro sono stati persi da donne e in questi mesi si è registrato un aumento del 60% del carico domestico per le donne e del 40% per gli uomini. Secondo l'Ispettorato del Lavoro di Bologna i casi di dimissioni sono stati soprattutto di donne con motivazioni legate al carico familiare. Occorrono risorse, investimenti, finanziamenti proprio per evitare un ulteriore arretramento delle condizioni della donna. Occorrono degli sgravi fiscali affinché queste possano essere assunte. Occorre un rafforzamento dei servizi socioassistenziali, dei servizi educativi affinché la stessa debba svolgere la propria attività senza coniugare i tempi della famiglia e i tempi del lavoro. Il cosiddetto smart working dovrà essere regolamentato e contrattato per tutelare maggiormente la figura della donna. Io ho fatto diverse telefonate ma sono state per adesso più le telefonate che ho ricevuto che quello che ho fatto io. Tengo che sia un mezzo utile magari anche da utilizzare anche oltre all'emergenza virus. Ti chiedevo intanto voi come state? Ma insomma diciamo che per fortuna fisicamente per il momento stiamo bene anche se abbiamo anche avuto un passaggio purtroppo anche come tanti che però abbiamo superato abbastanza bene diciamo. Certo che aver restituito un numero dove i pensionati e non possano avere un punto di riferimento è molto importante. La prensione dei pensionati soprattutto ma anche della gente in genere è sul fatto che un'emergenza sembra non finire mai e quella della preoccupazione di finire all'ospedale è che non ci sia il posto. La difficoltà della solitudine adesso si sente ancora di più. Manca diciamo il posto per socializzare. Sono in casa 24 ore al giorno, non riescono a vedere i figli e qualcuno non li ha neppure quindi la solitudine adesso si fa sentire molto di più che nei tempi normali. Mi fa piacere comunque aver sentito che state bene e quando avete bisogno approfittate del numero e chiamateci. Grazie, ti dite e buona giornata e buon lavoro. Grazie. Non mi freghi è un progetto fortemente innovativo voluto dai volontari e dalle volontari del controllo di vicinato dell'Unione Terre d'Argine e da Federconsumatori Modena. Hanno partecipato in tanti, fra questi la Prefettura di Modena, lo SPI, l'Università di Modena e altri soggetti. Abbiamo cercato di mettere insieme le esperienze fondamentali dei volontari del controllo di vicinato e quelle storiche di Federconsumatori che da molti anni, assieme alle altre associazioni di consumatori, è attiva nella gestione di uno sportello SOS Truffa, molto molto purtroppo molto frequentato. Quello delle truffe a domicilio, delle truffe telefoniche, delle offerte commerciali che rasentano la truffa è un tema, una questione su quale c'è un'importante attenzione, ma dove è necessario mettere insieme esperienze e competenze. Assieme ai quattro comuni dell'Unione delle Terre d'Argine abbiamo costruito un manuale che distribuiremo in migliaia di copie nelle piazze, che illustra i modi con i quali non farsi truffare dalle persone che si rivolgono a noi davanti alla porta di casa, piuttosto che al telefono, anche molto di truffe online. Noi abbiamo progettato una formazione online su tutti i diversi aspetti delle truffe, approfondita ma allo stesso tempo leggibile. Già oggi diverse migliaia di persone hanno partecipato a questi corsi che sono brevi e che sono disponibili sul sito del controllo di vicinato.